Roma, 28 dicembre 2017, assalto all'ultimo Pandoro in un supermercato di Palermo. Un episodio da Black Friday in salsa natalizia è andato in scena pochi giorni prima di Natale tra gli scaffali di una nota catena italiana di distribuzione. Dove gli sconti su alcuni Pandori hanno scatenato una ressa tra i clienti che ricorda quelle del venerdì nero dello shopping? Il momento è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza del supermercato e postato su Facebook da un dipendente. Nel video si vedono alcune persone che si accalcano davanti ai bancali per accaparrarsi i dolci natalizi. In pochi minuti altri clienti si accorgono dell'offerta e si crea un vero assalto attorno agli scaffali, con decine di persone che cercano di afferrare il maggior numero di Pandori possibile. In pochi minuti di lotta gli avventori fanno scomparire i dolci, facendo persino cadere gli scatoloni che reggevano la struttura di Pandori. Il video ha fatto subito il giro del web.